Resisti, nonna! Scusate, che c'è da un gabinetto? Non è per me, per mi nonna, una cosa urgentissima! Là, di fronte! Forza, dai, dai, che ci siamo! Dai, resisti, resisti! Dai! Aspetta, però mi sa che questo è dei fumatori! Ma che me frega a me dei fumatori, sì! Mi chiude a chiavi, capito? È da 15 km che c'ha sto gori-gori! D'altro canto c'è pazienza, cari anziani, perché non è che hanno la resistenza dei nuovi giovani, capito? Cioè, è diverso, capito? Per quanto io pure una volta sul pulmo della Dispoli stavo a combina' a provare una cosa, che a pelo pelo sono arrivato! Quanto costa una stanza? Perché a me quasi quasi mi conviene veramente farla dormire qua stasera e tanto per votar c'è tempo fino a domani, no? 28 mila di euro! Mimmo, Mimmo! Mimmo, Dio! Oddio, che gli sta succedendo? Oh, la prendo, va bene, la prendo, eh! Oddio, nonna! Che c'hai? Nonna? 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 Ah! Basta con questi scherzi, oh! Io vi piacciono con te, non vi voglio fare più, manco un milione, va bene? E poi qui apri che famo brutta figura famo! Ma che c'è frega lui? Che c'è frega? Si, ma che c'è frega? Ma che c'è stasca questa stai?